Quando è stata l'ultima volta in cui sei stato sobrio? Da undici anni. Devo toglierlo dalla strada o lo perderò? Benvenuto a casa. Non so cosa dire. Chi c'è? Ha perso un gatto. Mi sposi? Sai di chi è questo gatto? Che fai? Entra! In passato ho mandato all'aria tutte le occasioni che ho avuto. Su, vai! Questa volta è diverso. A quante vite sei arrivato? Io sono la settima. Guarda, è un coniglio! Hai già cenato. Tutti hanno una seconda opportunità. Ma non tutti riescono a coglierla. Per fortuna io ho avuto un compagno molto importante che mi ha aiutato a farlo. Ok, allora io te lo tolgo se tu prometti di non leccarti i punti. La mia Kundi è la mia cliente che mi ha il giro. La mia coolerazione del marmo è il quattro, dal lì. Non le preoccupi, nero, nel lì. La mia positiva è il quattro e il questo giorno è il quattro e il quattro. Grazie a tutti.